Alife è tra i comuni che vedranno la Randonè Reale, questa iniziativa che promuove il territorio, dunque non solo cultura, ma anche natura ed enogastronomia e tanto altro ancora. Certamente, sì. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Gallina, il responsabile dell'ASD Randonè, che ci ha invitato, invitandoci a fare il passaggio del gruppo, partendo da Castel di Sasso. E noi come Alife, come paese di passaggio soprattutto, abbiamo avuto modo di far vedere stesso a Giuseppe i nostri beni e lui è rimasto entusiasta. Faremo comunque una sosta al Mausoleo, che è il nostro principale fiore all'occhiello, dove faremo anche una tappa in anfiteatro con i ciclisti. Passeranno soprattutto nel centro storico anche di Alife e gli faremo assaggiare i prodotti tipici locali. Questo è un ringraziamento al presidente Gallina che ci ha fatto onore di invitarci, perché questa è la prima volta che il comune di Alife partecipa a questo evento sovracomunale. Quindi è un momento importante per voi. Un ringraziamento, ripeto, alla Reggia di Caserta, all'assessore Casucci e al Castel di Sasso, che ci hanno invitato a fare questo gemellaggio, questa sinergia soprattutto tra i paesi dove passerà la Randoni Borbonica.